Siamo a Remini Wellness nello stand Quinax insieme a Ilario Volpe che ci spiega un po' com'è questo workout che proponete? Bene, benvenuti nel mondo Quinax. Il mondo Quinax è praticamente la nostra struttura che offre tutto il lavoro funzionale e in sospensione. Praticamente un attrezzo multitraining dove tu puoi sviluppare tutte le capacità coordinative di condizionamento muscolare e ovviamente funzionale. E quindi la struttura può essere usata in modi completamente diversi. Una di queste, possiamo andare subito a vedere, è il Super Functional che è un attrezzo che si lavora tantissimo la mobilità articolare, la forza e l'abilità e agilità. Poi abbiamo anche lo Stroops che sono degli elastici che fanno una forza resistente e quindi creano anche la resistenza di da. Oltre a quello abbiamo anche i TRX che sono partner dei Quinax. Poi abbiamo i Sacchi da Box e quindi diventa un attrezzo multitraining. Il mondo Quinax, ciao!